Cosa vorreste lasciare ai posteri di quello che avete fatto fino adesso? Siete già morti. Come vi rappresentereste? Come rappresentereste tutto il percorso della vostra vita fino al momento in cui siete? Cosa ho fatto? Come mi hanno visto gli altri? Che relazioni ho avuto con gli altri? Cosa ho prodotto? Cosa ho immaginato di produrre? Cosa mi sarebbe piaciuto? Mi sarebbe perché ormai non lo potete più fare. Lo dovete pensare grandioso, cioè memorabile. Sapete cos'è memorabile? È un monumento. Quando uno ci passa non se lo dimentica più. Una commemorazione. La notte è il mio, la notte è il mio. La notte è il mio, la notte è il mio, la notte è il mio. E' un po' Questo è il posto dove finirò, dove sto finendo, visto che sono morta. E' un posto che nessuno conosce e che nessuno di voi può vedere. E' invisibile ed è una protuberanza della terra che ha una forma simile a un cuore, però non è un po' Ma quanti fatti? Chi sei? Chi sei? Non sono niente, non sarò mai niente, non posso volere essere niente, a parte ciò poi niente tutti i sogni. E' un po' 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 E' un po'